Buonasera e ben trovati con l'Evidenziatore. La Sicilia è un film pieno di inizi folgoranti e con finali a sorpresa. Lo sapeva bene Berlusconi, la cui lunga egemonia partì proprio da qui, con il famoso 61 a 0 del centrodestra, alle politiche del 2001. E lo sa bene anche Grillo, che si è fatto a nuoto lo stretto per meglio catturare l'attenzione di un popolo che ha amato le manifestazioni dal sapore ducesco. Ma oggi, dopo quasi 12 anni di amministrazione, Cuffaro Lombardo, con il primo dei due presidenti in carcere a Ribibie per favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra e il secondo indagato per la stessa ragione, la Sicilia può davvero voltare pagina. Rosario Crocetta, che di per sé è un personaggio da comunista e gay dichiarato divenne sindaco dell'arcaica Gela con un plebiscito di voti, è da sempre in prima linea nel contrasto alla mafia e ora vuole provare ad allargare il campo della battaglia all'intera regione. Ma i cittadini sono perplessi, un passato pesante li ha costretti ad abbassare le pretese di un futuro migliore e se c'è chi crede che voltare pagina si può, c'è anche chi continua a sentire l'eco del pianto di Rosaria Cossa, la vedova dell'agente di scorta ucciso nell'agguato mortale al giudice Falcone. E quelle sue parole per sempre nella memoria, ma loro non cambiano, non vogliono cambiare. Manca una manciata di giorni alle elezioni regionali e in Sicilia si respira un clima tiepido, d'anteprima come se i titoli di testa fossero troppo lunghi e gli spettatori nel frattempo si fossero distratti. Eppure gli attori ci sono, la trama pure, direbbe qualcuno che manca come sempre il produttore. Sì perché qui in Sicilia il grande mecenate del cinema della politica, quello che ha ammietuto incassi da record alle elezioni del 2001, ora sembra essersi ritirato dalla ribalta del potere. Berlusconi è il grande assente nella campagna elettorale siciliana e scaricato l'ex pupillo Gianfranco Micichè, che oggi corre per la poltrona di Palazzo d'Orleano con il grande sud e l'ombra pesante di Raffaele Lombardo, il PDL si è dovuto mettere a cercare un candidato nella destra di Storace, ed ecco spuntare dal cappello Nello Musumeci, già presidente della provincia di Catania, che gli ultimi sondaggi danno testa a testa con il candidato della strana alleanza PD-UDC. A unire Casini e Bersani in controtendenza con il trend nazionale non poteva essere che un personaggio trasversale come Rosario Crocetta, che da comunista gay dichiarato è stato il primo sindaco antimafia della Sicilia. Crocetta vive da dieci anni sotto scorta, non pubblica libri per questo, ma ha nel frattempo fatto arrestare quasi mille malavitosi. Alla sua sinistra c'è la sindacalista Giovanna Marano, candidata di Selle e DV dopo che Claudio Fava ha dovuto rinunciare per una distrazione imperdonabile. Aveva dimenticato di non essere più residente in Sicilia. Che l'effetto del voto in Sicilia abbia un valore a cascata sulle altre partite a livello nazionale, dalla Lombardia a Lazio fino alle politiche, lo sa bene Grillo, che per sostenere il candidato del Movimento 5 Stelle, Giovanni Cancellieri, si è fatto a nuoto lo stretto ed è tuttora impegnato in un tour di due settimane nell'isola. Per misurare la temperatura di queste elezioni basta andare al mercato. Siamo nel centro di Catania, feudo lombardiano e qui la sfiducia nella classe politica che ha portato sin qui la regione è palpabile. Noi non abbiamo più fiducia di nessuno, non ci fidiamo più di nessuno perché siamo troppo delusi. Qua ogni cosa che fanno mettono delle tasse sempre a Popolino, sempre a Popolino. Ma io vieno a toccare a queste pocci grosse, non che a toccare sempre a Popolino. Ma di uno è questo fatto? Così non si ci arriva più, non esiste. Noi siamo stanchi. Cioè infatti a votare non ci va più nessuno. Vengono qua i polizzi, sì te lo diamo il voto, ma poi alla fine non ci andiamo. Perché siamo stanchi di prenderci in giro, perché ne ha vita che ne pigliano in giro. Al momento quello che direi non piacerebbe a nessuno, penso meglio che tacci. Tutti quanti, tutti che fanno cose buone, ora che c'è l'elezione, poi c'è che roba roba. Comunque non mi basta di dire politica perché sono... Ah, ho la nausea, mi credo, ho la nausea. Aspetta sì, un pensiero per Crocetta. C'è la Marano che è un volto nuovo, un volto pulito, anche se probabilmente è la meno favorita. Quindi bisognerebbe tentare un voto più utile. Però la mia coscienza non ce la fa, voterà quella pulita, quella non implicata nei governi dell'Ombardo. Ho simpatia per il museo, può essere che la tua allogia, vai ce l'hanno, però c'è il punto intero con il primo momento. La fotografia di una regione che rischia il collasso in ogni minuto, la percezione che il tempo per mettersi in salvo sia poco, la fornisce l'Istat. La Sicilia ha perso 35.000 posti di lavoro nel 2012. Il tasso di disoccupazione è il doppio della media nazionale. Ivalo Bello era presidente della Confindustria regionale quando, nel luglio scorso, ha annunciato il possibile default della Sicilia. Intervenuto Monti, Lombardo è stato costretto alle dimissioni. Oggi l'imprenditore, che ha ripulito l'associazione dalle aziende che facevano affari con la mafia, stima che la Sicilia ha perso 18 miliardi di euro durante le amministrazioni di Cuffaro e Lombardo. Ma la politica chiede ragioni valide per convincere chi fa impresa a non astenersi dal votare. Vincerà il candidato che in questi ultimi dieci giorni riuscirà a dare la sensazione di essere veramente un elemento di rottura rispetto al passato. Oggi gran parte delle aziende dipendono da questo, cioè da, non ambiguità perché non è esatto il termine, ma dal fatto che non sono riusciti ancora a caratterizzare, in termini di rottura rispetto al passato, questa campagna elettorale. Nella quale vanno bene anche gli slogan politici perché comunque si fanno sempre in una campagna elettorale, però di fronte a una situazione complessa della Sicilia, che si trova in un passaggio epocale, con una situazione finanziaria disastrata e non meramente congiunturale, è un dato strutturale che si è consolidato nel tempo. Probabilmente oggi i siciliani che hanno a cuore le sorti alla Sicilia, non stanno dentro le reti clientelari o assistenziali, si aspettano una parola forte su questi temi, ma anche come affrontare il dopo. Se le politiche pubbliche saranno le stesse di questi anni, cioè la gestione del precariato e non un'attenzione vera al mondo del lavoro, al mondo dell'impresa, che sono quelli che creano ricchezza nei paesi. In questi anni c'è stata una disattenzione fortissima rispetto ai soggetti che producono ricchezza e quindi consentono anche poi di redistribuirla. Non a caso il nostro mondo industriale in questi anni ha lavorato insieme con una grande capacità di raccordo col sindacato, perché abbiamo gli stessi interessi al di là delle vicende contrattuali che possono emergere nelle trattative sindacali, perché oggi riteniamo che la Sicilia cambi se si mettono al centro lavoratori e imprese. Gli stessi siciliani non sono così sciocchi da pensare che il vecchio modello è ancora duri, che ci siano i soldi pubblici che in qualche modo compensano la scarsa crescita dell'economia. Oggi siamo in un mondo totalmente diverso e abbiamo passato e c'è un nuovo paradigma che ormai vede risorse pubbliche sempre meno rilevanti e regioni che devono darsi da fare attraverso la capacità di costruire crescita economica e sociale vera. L'epoca di mamma regione è totalmente finita, anzi sta diventando in questa fase un problema per i siciliani e per la Sicilia, perché invece di essere una mamma generosa che redistribueva risorse anche in maniera un po' spericolata in giro per la Sicilia, oggi invece è un freno enorme alla crescita. Giovanni è un imprenditore palermitano nel settore della ristorazione, ha sempre votato a destra, ma oggi deluso della politica sta pensato di portare la sua azienda in Romania e ci spiega così il perché. Palermo è uno dei centri storici più grandi d'Europa, ma a che serve? Abbiamo una cultura, abbiamo la gastronomia, abbiamo tanto da far conoscere, conoscono la mafia, al mondo si conosce la mafia, come se la mafia esiste solo in Sicilia, negli altri territori non esiste, mi viene da ridere. In palermitano si upisce fede la testa, il pesce fa puzza dalla testa, quindi se il padre è maleducato i figli crescono maleducati, se il padre è un buon padre di famiglia e insegna l'educazione ai figli, i figli come devono crescere? Educati, rispettosi, quindi il pesce fede ha la testa, va bene? Il lavoro e la legalità, la rivoluzione e il sogno, l'onestà e la fiducia. Sono queste le parole d'ordine che campeggiano su manifesti elettorali, ma oggi la sfida per chi amministrerà questa regione si gioca sul lavoro. Per Lucia Borsellino, la figlia del giudice antimafia, indicata l'assessore in pectore da Rosario Crocetta, il nodo sta proprio lì, nella terra di mezzo tra clientele e posti di lavoro, tra voti utili e favori, come se, una volta sbloccato il sistema mafioso che distribuisce benessere fedelissimi, lo sviluppo seguisse. Io penso che non possiamo esimerci dal guardare in faccia la realtà. Io credo che ancora nella nostra terra ci sono veramente dei ampi margini di legalità diffusa, ma soprattutto di una mentalità, di un retaggio culturale che spesso costituisce la più grossa resistenza al cambiamento. Io vorrei dare il mio contributo in tal senso e quindi fare in modo che il rinnovamento parta proprio dall'aspetto culturale, quindi dalla mentalità della gente. Vorrei che anche per esempio, ritornando all'accesso ai servizi, che questo non fosse mediato dall'interessamento di un politico piuttosto che di un amico, ma che ci fosse veramente la possibilità di poter accedere equamente a un servizio pubblico, qualunque sia l'estrazione sociale del cittadino, è il tipo di conoscenze più o meno dirette o indirette che lo stesso può vantare di avere. Il danno delle amministrazioni precedenti ha risentito molto degli aspetti legati alle persone che erano a capo di questo governo. Sicuramente è stato un danno, oltre che sostanziale, perché si è determinato anche un uso improprio delle risorse, è stato anche un danno d'immagine, perché ciò che viene fuori è poi quello che la Sicilia è governata per lo più da uomini che non sono dritti moralmente parlando e quindi poi alla fine ci si vergogna. Anche una cittadina normale, come posso essere io, mi vergogno di presentarmi con questo biglietto. Chi ha vent'anni oggi in Sicilia è nato durante le stragi di mafia ed è cresciuto con i collusi al potere e ha una voglia immensa di cambiare pagina, come Rachele che studia per diventare assistente sociale perché a lei le relazioni tra esseri umani, quelle autentiche, sembrano una finestra sul futuro. Un cambiamento che deve essere radicale, ma che deve venire soprattutto da noi cittadini, perché noi cittadini dobbiamo essere attori attivi, cioè non dopo dare il voto quasi quasi deresponsabilizzarsi e delegare quelli che sono i compiti della nostra società a qualcun altro, ma essere cittadini attivi, cioè criticare se è il caso, proporre, incentivare nuove iniziative. Invece no, ognuno di noi che cosa fa? È più facile portare avanti il proprio percorso di vita individuale che non quello collettivo. Allora dove sta veramente il bene comune? Dov'è il capitale sociale? Se non siamo attori attivi nel territorio non potremo mai accrescere e sviluppare, poter contribuire nella nostra terra, ma saremmo costretti sempre da dover andare via. Io da giovane che cosa chiedo? Persone attendibili, persone credibili che realmente possono tener conto di quelle che sono necessità e bisogni di tutti, qualsiasi cittadino, senza nessuna forma di discriminazione. Questo è il vero cambiamento, il cambiamento è della mente, però noi giovani dobbiamo essere i primi a poter in qualche modo incentivare la gente a cambiare. Una buona serata e ben trovati all'Evidenziatore. Allora avete sentito, la prima regione in cui si voterà sarà la regione Sicilia. Tutto questo domenica prossima, domenica 28 di ottobre, i seggi apriano alle 8 del mattino, chiuderanno alle 22 elezioni anticipate dalla prematura fine della legislatura di Raffaele Lombardo. Allora si tratta di elezioni particolarmente combattute, 12 candidati presidenti e un'infinità di liste collegate, il cui risultato, a detta di molti, influirà anche sulle future alleanze per le prossime elezioni politiche, quelle che si daranno nella prossima primavera. Nella stessa occasione, lo ricordiamo, domenica prossima si voterà anche per la nomina dell'Assemblea regionale siciliana, costituita da un totale di 90 deputati selezionati ed eletti all'interno delle liste presentate poi da ciascuna provincia. Non c'è nessun dubbio che l'attesa più grande riguarda il risultato che sarà capace di ottenere il Movimento a 5 Stelle, il cui candidato Giancarlo Cancellieri viene in qualche modo trascinato dal Cicone Beppe Grillo. Vedremo anche alcune immagini della traversata nuoto tra Messina e Reggio Calabria, proprio del leader del Movimento a 5 Stelle. E poi naturalmente occorrerà capire che cosa è capace di fare il Partito Democratico e come si comporterà il PDL. Nel centro-sinistra si fanno in questo momento le prove tecniche di allargamento al centro. La candidatura infatti di Rosario Crocetta è sostenuta dal Movimento Politico Crocetta-Presidente, dal Partito Democratico, dall'Udc, dall'Unione di Centro e dall'Unione Democratica per i consumatori. Più complicata invece è la situazione del centro-destra. Nello Musumeci è il prescelto del PDL che lo sostiene insieme alle liste. Nello Musumeci, Presidente, Cantiere Popolare e Alleanza di Centro. E poi infine c'è Gianfranco Micicè, ex Forza Italia, sostenuto dal Partito dei Siciliani, l'MPA, il partito fondato da Raffaele Lombardo e dal Grande Sud formato dallo stesso Micicè. Allora di questo e di altro parliamo questa sera, lo ringraziamo qui in studio con Nino Bertoloni Meli di Europa Siciliano, fra l'altro che dunque conosce molto bene questa terra, grazie per essere con noi. Ben trovato, poi avremo anche una telefonica con Enrico Fiero del Fatto Quotidiano che in questi minuti si sta occupando proprio del voto di domenica prossima. Allora Bertoloni Meli, intanto, che cosa è stato il governo della Regione Sicilia sotto Raffaele Lombardo? E' stato tante cose, tra le altre quello che vorrei sottolineare stasera ha segnato a suo modo una rottura nel classico blocco moderato che governa la Sicilia da sempre, perché non dimentichiamoci durante il suo governatorato, chiamiamolo così, il centrodestra si è diviso, tanto da arrivare a un governo che non era più retto dalla maggioranza che ha vinto le elezioni, era entrato il PD, una parte almeno del PD, eccetera. Allora, poi, cosa è stato? Adesso da qui un po' un bilancio... Ma diciamo che l'ultimo governo Lombardo aveva imbarcato dalle persone stimate, tipo l'assessore russo che aveva messo mano all'enorme buco della sanità, ma quello che mi interessa sottolineare è che l'ultima parte del governo Lombardo si è tendata a un'operazione che si può chiamare vagamente di tipo milaziano, cioè mettere all'opposizione il partito dominante da sempre e creare delle nuove aggregazioni. Sull'appoggio del PD dato a questo governo Lombardo, lì il PD si è diviso. Io adesso una sintesi la direi così, era un'operazione che andava fatta, ma purtroppo non è stata possibile condurla in porto perché il personaggio principale di questa operazione, cioè Lombardo si è dimostrato, non dall'inizio ma alla fine, impraticabile. Nel senso che è ovvio che se io faccio un accordo con te all'insegna del rinnovamento siciliano e poi te risulti con i venti, adesso sono accusa da provare, ma insomma con i venti con la mafia, con corso esterno, eccetera, eccetera, è ovvio che l'operazione politicamente potrà essere stata di tale bontà, ma si dimostra impraticabile, tant'è vero che gli stessi che hanno appoggiato hanno dovuto poi ritirare il consenso a Lombardo e andare alle elezioni. Ma perché dico che era un'operazione da seguire? Perché in Sicilia, inutile girarci attorno, c'è un blocco alla guida politica, sociale e istituzionale dell'isola da sempre di tipo moderato conservatore e si può decidere che le forze di progresso di sinistra ogni volta vanno alle elezioni per partecipare, per ottenere il loro 30%, ci sono riuscite tutte insieme, ma non governano, non si prendono la responsabilità. Oppure se tu sei una forza che non ha sedata di poltroni, ma che dice, le cose che dico le voglio attuare dall'unico modo possibile stando al governo, non puoi fare altro che cercare di spezzare il blocco dominante, il quale si spezza anche per conto suo. Dimentichiamoci che lì tra Micichè da una parte e Alfano e Schifani dall'altra c'è stata una frattura enorme, tant'è vero che adesso alle elezioni si presentano non solo divisi, ma con odio reciproco tra di loro è uno scontro enorme. Allora, ai tempi pure di Milazzo, quando il PC si alleò col Miss e una parte dell'ADC per mettere all'opposizione l'ADC dominante, ci fu un'enorme discussione, accusarono il PC di Togliatti di essersi colluso con i Missini e qui non è un problema, mi sono colluso con i Missini, è chiaro che tra forze antagoniste qualche punto in comune si riesce a trovare, soprattutto su discorsi di autonomia dell'isola, ma il punto politico è quello, se una sinistra che matura per governare deve curare l'orticello, andare alle elezioni per partecipare, oppure se fare politica, puntare a rompere il blocco, sarebbe a parte contrapposte una destra che va alle elezioni in Toscana, in Emilia, lì ci sono retaggi storici, uno è forte da sempre, che fa? O partecipa oppure cerca di creare dei problemi e quindi ha il blocco dominante da sé, quindi qui a prescindere da quello che fa, però l'operazione politica andava perseguita, si è dimostrata non perseguibile per motivi, ma non è che l'MPA nasce come partito con l'uso. Assolutamente, va bene, chiaro, poi guarderemo naturalmente anche al centro-sinistra a proposito di alleanze. Nel frattempo ci ha raggiunto il collegamento telefonico e lo ringraziamo, si trova in redazione a scrivere proprio di Regione Sicilia, Enrico Fiero del Fatto Quotidiano, buon pomeriggio Enrico e grazie. Buonasera a voi. Allora, come guardi a questo voto di domenica prossima in Sicilia? Come al solito la Sicilia si presenta come un laboratorio, è stato sempre così, anche diciamo durante i periodi storici riferibili alla Prima Repubblica, quello che accadeva in Sicilia poi si rifletteva, diciamo, nello scenario politico nazionale, anche se questa volta il laboratorio presenta punte di drammaticità. Un solo esempio, il buco della regione è stato valutato dalla Corte dei Conti in 6 miliardi di Euro e la stessa giunta Lombardo paventava un rischio deforme nel 2014 se non dovesse cambiare il patto di stabilità. Questo è lo scenario drammatico, ma ce n'è un altro. Lo scenario drammatico in un momento politico in cui la gente chiede rinnovamento, sobrietà della politica, sobrietà delle istituzioni, noi abbiamo, tanto per fare un esempio, che su 20 liste, 1600 candidati, gli uscenti, quindi forse quel blocco di potere solido, bipartisan, interpartitico al quale ci si riferiva prima, gli uscenti candidati su 90 posti di deputato regionale sono 76, nel Partito Democratico, per fare un esempio, i 20 deputati uscenti sono in corsa per essere riconfermati. Mi pare che altro che rinnovamento, altro che argine al grillismo imperante che in questi giorni basta, come dire, consultare internet, youtube e i siti, in questi giorni sta affollando, come non si vedeva da anni, le piazze siciliane. Allora io vorrei far vedere a questo proposito come Beppe Grillo qualche giorno fa è arrivato in Sicilia, accompagnato naturalmente da un piccolo gruppo dei suoi. Vediamo insieme queste immagini. Allora io vorrei far vedere a questo proposito come Beppe Grillo qualche giorno fa è arrivato un po' di rispetto, un po' di rispetto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.